Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Se mi seguite sapete come ho da avere le cose che ora aprirò con voi Dovrete vedere il video Apro i regali di San Nicola E praticamente lui mi ha regalato le luci Twinkly E oggi le aprirò con voi Ok Questa cosa ci chiedete Aiuto Ok intanto devo capire come si apre Ecco così Ho capito tutto io Ok Credo che ho capito io Io spero di aver capito tutto Ciao a tutti Ok Ok Apriamo Devo capire come Non capisco come si apre Sì Cosa Che praticamente Tipo la puoi tenere per laverla Che bella Adoro Questa con le regole E poi le magnifiche luci Poi c'è la cosa che devi Così si accendono le luci Io sono stra contenta Delle luci Perché sono stra belle Vi mostrerò come si usano Cioè Non come si usano Vi farò vedere come esce sull'alto Voi guardate Io adoro Cioè io sorpresa Questo 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 era tutto E ricordatevi Iscrivetevi al canale Per fare il team dei sciacchetti Attivate la campanellina Per non perdere nulla E lasciate un bel like Ciao Ciao